Mister, un teramo troppo brutto per Severo, di certo ci si aspettava qualcosina in più quest'oggi da una squadra che comunque deve salvarsi. La partita è stata equilibrata, abbiamo cercato di fare il primo tempo con i nostri problemi, perché sappiamo che abbiamo qualche problema, però i ragazzi hanno tenuto bene, non abbiamo mai concesso niente, è una squadra che di solito in casa ha sempre fatto molto bene. Abbiamo pagato la solita ingenuità e questo dispiace, perché poi alla fine facciamo fatica a costruire qualche cosa e di conseguenza se continuiamo a prendere gol sulle situazioni di gioco da ferme è normale che lì è una questione di attenzione, sono momenti che decidono le partite. Questa è una partita che onestamente, almeno dal mio punto di vista, non ho visto una squadra che ha sofferto. Non ha fatto forse la migliore partita, però non ha fatto neanche la peggiore. Rimangono le difficoltà nell'essere propositivi in avanti, quest'oggi solo un tiro in porta da parte di Spighi nel primo tempo, come si può fare per migliorare? Bisogna lavorare di più, cercare di cambiare qualche cosa, cercare di migliorare sicuramente la condizione di molti giocatori, soprattutto lavorare sulla testa, perché penso che questa ennesima battuta d'arresto moralmente dobbiamo ritirare sulla testa, perché abbiamo un'altra partita, il calcio offre sempre la possibilità di tirarsi su, il percorso è ancora lungo, lo sapevamo che era difficile, ce lo stiamo complicando e dobbiamo un attimino rialzare la testa. Il percorso complicato per l'appunto, come ha detto lei, la situazione adesso in classifica si fa sempre più difficile? Non era carina neanche prima, c'eravamo un po' illusi che forse dopo due partite aver fatto quattro punti, il percorso adesso è normale che se continuiamo a commettere determinati errori diventa dura, dobbiamo dare qualche cosa di più a tutti, questo è normale. Mister, siete stati attenti e ordinati nel corso del primo tempo, nel secondo tempo avete approfittato al massimo di una ingiunità difensiva del Teramo e poi avete sostanzialmente controllato la gara. Mi creda, questa per noi è una vittoria di vitale importanza, arrivata al termine di una partita difficile dove il Teramo se l'è giocata, noi io in settimana sapevo che questa sarebbe stata una partita di grandi difficoltà perché il Teramo ha un organico di spessore, purtroppo è là e quando ti trovi là puoi far fatica e quindi arrivare noi a vincere questa partita qui è veramente tanta tanta roba perché abbiamo vinto una partita con una maturità tattica e tecnica notevole e per questo devo ringraziare, devo dire bravi ai miei calciatori. È una vittoria che voglio condividere col mio staff e dedico anche a loro perché sono sempre io qua ma grandi meriti dal mio staff anche insieme ma io non guardo in questo momento quelle più avanti sicuramente essere arrivati a 40 punti a 9 giornate dalla fine è un risultato di grande rilievo ed ha uno spessore, ha un valore molto alto perché questo Albino Leffe in queste 29 partite ha fatto un buon calcio e quindi devo dare merito ai miei calciatori e ripeto vincere oggi contro il Teramo questo Teramo che io ho grandissima stima per me è un grande risultato.